Ehi Polpetta vuoi venire qua a salutarmi? No non voglio! No! No ma guarda che non è un problema Io ti voglio, io ti voglio bene Polpettina No! Guarda ti dico una cosa, ti dico un segreto se ti avvicini Dai non avere paura, vieni! No non voglio! Oh! Mi spiego! E' andato! E' andato! No! Io ho visto un team ma mi sembrava lungo Io sono sceso sotto e bloccato corto Eh lo sappiamo ragazzi Vabbè ma dai! XD 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 Veramente nonno Ma siete sicuri che hai contestato? Eh ma non è stato, siamo venuti nella piazza che mi hita Da me, da me, da me, da me No, non voglio instant Porco piazza, porco piazza Possibile Piazza che simpatico morista Ok, dopo so io dove scendiamo Mi ha preso in braccio Efesto andiamocene No, Exeterone Io l'ho sempre portata la vittoria Mi lanciano una sfida e dobbiamo vincere figa Dobbiamo vincere? No, no, per il top 3 No, vincere Ah Sali sali che poi tiro il boost SALI PORCO DIATS! L'ho sbagliato il tasto Pensavo che sarei sicuramente Vada, vada Suone, suone Eh niente Porco piazza C'ho un problema grande F Qual'è il grande problema? Il grande problema è che loro hanno una seconda barca adesso Cosa che noi non abbiamo C'è 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 Spiaggia e loot eh? Si stanno pure sparando Allargati a destra Deve Schiuder porco Schiuder, ok a destra Eh me ne sto andando a destra E ma è pericoloso passare con me Certo che è pericoloso Ma è più pericoloso farsi sparare da altre persone F devi tenerli a sto punto Ciao 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 Ti hanno prequisito? No, no Che buona madre Eh ma il terzo da solo Schiuder non l'ho mai fatto Che comunque Schiuder è quello che Assolutamente rimane più vivo di tutti quanti Proprio un money buzz Il terzo è il game pieno proprio Cioè Abbiamo avanti due tentativi È intanto All'op 18 Eh mi sto andando c'è la bandiera italiana Top 15 Oh io Sono ancora vivo Sono entro in 40 ragazzi Ma che cazzo di luta? Vabbè Ho capito Che cazzo Che cazzo di luta? Adesso con calma Lei deve Deve Perché deve Perché deve sempre prendere in giro Figa perché deve sempre Io non avevo visto il luce La pistola del tempo La pistola è in caccia ragazzi Vabbè 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 Adesso intanto ho una pistola verde Aiaiaia 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 No è Aiaiaia Aiaia Andiamo Aiaiaia Aiaia Aiaia Com'era? Com'era? Aiaiaia Aiaia Aiaia Aia Aiaiaia Aiaia Aiaiaia Esatto Secondo me io di qua sono tranquillo Anche secondo me Ho corso praticamente tutta la mappa ho fatto A piedi Noi siamo atterrati al faro e io sono andato a piedi qua Lo Sta panicando No ho un'idea E va fatta Ho un'idea Potrebbe essere Sì no ho l'idea è l'unico modo Non è che guarda prima Lui ci va diretto Non c'è neanche una scala ho già visto Ho detto che mi è venuta in mente l'idea E qua non si scappa più signori E tanto che non lo faccio ma posso farlo Suspense? Un po' di suspense certo Ehm Non so Non so Si Ma come si? Ma non riesce mica la toglia proprio Ce la faccio? No 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 ce la faccio Ah ma dice a un certo punto esce per esempio Quando magari tra pitti tipo Dico che c'è un Botto di gente là in alto Tolgo anche gli shield e ve lo dico Si ci può stare Tanto se la ingaggia non muore Certo C'è sicura qua Sei pesci Trecento di vita Non ho ancora finito sto andando di qua Non per caso Ci sono altre pozze di qua Ha molto più senso Ok Lascio le splash No se lo butti avanti Se lo butti avanti Magari dopo lo lascio la canna no? Lascio le splash Non è quello il problema Nel senso Top 9 Oh top 9 Dai Citrone io crede in lei Top 9 Grazie Credi in me adesso perché sto Dai Efesto per favore Perché una challenge ecco perché crede lei Vai andiamo Andiamo avanti Aspetta un momento effetti Parlami dopo Si ci vede Prego 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 Così Che cazzo stiamo in chiesa? Ma che cazzo ne è partita ragazzi Allora potrei chiedere lo citrone perché quando io gli do ne di Bizz mi dice giudicire Bizz come si fa non so se ho capito No non ho capito No non andare giù Sto guardando un attimo io posso anche andare fuori safe non ho problemi E' questa la figata di questa roba Non dovevo la sera perché mi sono dimenticato dell'ultimo ma Se mi riescono a fare entrare non mi trovano più io te lo dico La fake La fake La fake la fake La fake ster è questa Eh ma facendosi vedere non mi sembra molto Non mi hanno visto non mi hanno visto sono tutti concentrati a fare altri cazzo loro Ti preoccupare Potrei non essere d'accordo però speriamo che lei ha ragione in questo caso Questa è una fake ster è al bordo Ciao Bron Si metta quasi tutta la montagna bravo Perfetto Bravo Mi piaciuto pure tutto questo Mangio una polpetta Come premio mi sembra Esatto Come premio per essere in 19 new and game Lo sappiamo di pono questa sera Come papà 120 Sicuramente Easy Allora come 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 faccio io pensavo padre vado ragazzi appunto è quello il discorso va bene sì ma non è morto nessuno siamo in 19 prendo qualche danno dalla safe sembra tutto libero qua con calma con calma anche se star 5 secondi fuori non è un problema no no appena non abbia fretta bravo sono pronto eh ne faccio un altro ancora prima di no 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 vabbè madonna mi sembra complicato bravo bravo si copra dietro si chiudere la safe sinistra guarda che la montagna è veloce si si ora me li faccio ok chiamami la piena di materiali non vedi più cosa accadda ho sbagliato tutto è un pacco di assi sto ragando tantissimo top 5 top 5 un applauso l'ho presa top 4 top 5 top 5 top 6 6 6 6 daje let's go 6 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 7 8 8 8 9 9 11 9 12 12 12 12 13 15 14 15 16 16 17